Tanto si è parlato in questi giorni dei fondi che sono stati assegnati dalla regione Piemonte con la destinazione di far sorgere delle case di comunità e un ospedale di comunità. Scendiamo nel dettaglio, lo facciamo insieme al direttore sanitario dell'ASL di Biella, Claudio Sasso. Allora ci spieghi dove sorgeranno e di che cosa si tratta nello specifico. Sì, la regione ha finanziato tre case di comunità, una sarà a Biella nel ex poliambulatorio di via Fecia di Cossato, un'altra a Cossato e un'altra in Valdilana, in specie a Ponzone come sede. Le case della comunità sono finanziate appunto dalla regione tramite PNRR, hanno la funzione quella di essere a disposizione dei, hanno come target i pazienti cronici principalmente, i pazienti fragili e coinvolgono le varie figure professionali nella presa in carico appunto dei pazienti. Quindi innanzitutto dai medici di famiglia, i medici di assistenza primaria, i medici specialisti e le altre figure professionali come appunto le infermiere, i fisioterapisti e altre figure professionali. Nella presa in carico completa del 360 gradi del paziente. Ci saranno anche delle centrali operative. Sì, le centrali operative saranno due, una a Biella e una a Cossato, all'interno delle case della comunità e dovranno fornire un coordinamento dell'assistenza a livello sia di dimissione appunto ospedaliere, a livello poi soprattutto sul territorio. Cioè dovranno garantire un coordinamento nel passaggio dei vari setting appunto assistenziali dalla dimissione dell'ospedale verso appunto il domicilio oppure verso appunto l'ospedale di comunità o i CAVS, quindi strutture intermedie in cui appunto il paziente può soggiornare prima di ritornare appunto a domicilio. Allora, è senz'altro insomma un'iniziativa completa che in una provincia come la nostra va veramente ad abbracciare una grande percentuale di pazienti cronici, di persone anziane. Però qualche anno fa i cittadini hanno sentito parlare delle case della salute e oggi di case di comunità. Qual è la differenza? La differenza è che dovremmo appunto riuscire a coinvolgere tutte le varie figure che si occupano appunto dell'assistenza, in particolare a livello territoriale e quindi faccio riferimento in particolar modo ai medici di assistenza primaria, ai medici curanti dei pazienti, ma non solo ma anche ai servizi sociali perché appunto il paziente cronico non ha necessità solo di clinica e di assistenza ma anche appunto davvero di una presa in carico da parte di tutti i componenti dell'assistenza territoriale.